Ciao a tutti e a tutte! Eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Da ieri sono ufficialmente iniziate le vacanze di Pasqua e io sono molto felice sia perché potrò rilassarmi un pochino per un po' di giorni e soprattutto perché andrò a buona possibilità in queste vacanze di realizzare uno dei miei grandi sogni che vi avevo menzionato negli obiettivi appunto del 2018 e si tratta di andare a vedere l'alba! E devo finalmente realizzare questo mio sogno ed è tutto merito di un mio grande amico si chiama Stefano ed è un artista locale di Fiorensuola, dove abito io lui dipinge dei quadri e mi viene anche regalato uno, ne potete vedere i miei video magari poi vi metto la foto per farvelo vedere meglio Un giorno parlando con lui ho spesso il grande desiderio di andare a vedere l'alba e gli ho appunto riferito di non averla mai vista non averla mai vista e di non averla mai attesa soprattutto appositamente per guardarla e lui è rimasto veramente stupito perché lui era solito al calcio abbastanza presto e quindi gli sembrava naturali appunto vedere l'alba tutti i giorni e allora lui molto gentilmente mi ha donato la sua disponibilità appunto per portarmi a vedere l'alba e ci andrò anche insieme i miei genitori e sono felice perché la vedrò da un posto molto suggestivo quindi sono molto entusiasta e si tratta di una chiesetta dove lui ha realizzato un bellissimo crocifisso e quindi insomma deve essere particolarmente emozionante andare a vedere e davvero ringrazio ancora questo mio amico per la sua grande disponibilità a portarmi ho fatto questo video principalmente sia per rendervi partecipi di questa esperienza di cui vi avevo parlato anche in un video quindi mi sembra giusto che in qualche modo ne prendeste parte anche voi ma anche perché principalmente perché dopo averla vista faccite nevo usare questo canale youtube come una sorta di diario per esprimere tutte le emozioni fantastiche e forti che ho provato sicuramente farò anche delle foto e quindi le inserirò senza problemi all'interno del video quindi se siete entusiasti di questa proposta che vi ho fatto mettete un bel pollice in su fatemi sapere se voi avete già avuto l'onore di averla vista o se non l'avete mai attesa come me e se vi piacerebbe e io vi mando un bacione fatemi sapere con un commento se siete entusiasti di aspettare il mio prossimo video con la reazione di me che sarò emozionatissima dopo aver visto l'alba e ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti ciao